Bene, buon pomeriggio, ben ritrovati. Allora, continuiamo a parlare di questo argomento un po' fastidioso. In realtà ovviamente la tipizzazione del dato è uno dei concetti più importanti della programmazione ad alto livello. Non se ne può ovviamente fare a meno perché è troppo comodo tipizzare le variabili perché poi dopo gli operatori e le funzioni, a seconda di come è stata definita, di che tipo la variabile, faranno un'operazione oppure un'altra in automatico. Per carità, non ne potremmo fare ovviamente a meno. Però, indubbiamente, la gestione dei tipi di dato per le variabili rappresenta un aspetto delicato della programmazione. Come abbiamo cominciato a vedere oggi, nelle conversioni di tipo, che si fanno pure, e non si può fare a meno di farle, bisogna fare sempre molta attenzione. Perché non possiamo fare a meno di farne? Perché a volte abbiamo la necessità di compiere delle operazioni con variabili di un certo tipo, miste queste operazioni con variabili di un altro tipo. Per esempio, prendiamo proprio questo esempio che c'è adesso sulla slide. Spero che si veda da in fondo alla... Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo un pezzo di un programma in cui stiamo lavorando su... Non so, sarà un software, un gestionale per un negozio, per esempio. E abbiamo definito una variabile prezzo unitario di tipo float. Per la verità, questa variabile qui, vedete quel const lì davanti, sta a significare che in realtà, all'interno del nostro codice, quella variabile dal momento in cui prende il valore, e cioè qui in questa riga di codice, non potrà più essere modificato quel valore. Per far questo ci si mette questa parola chiave davanti, const, è il modo in cui si definiscono le costanti in C, e cioè anteponendo la parola chiave const al tipo dove ci sarebbe stata una dichiarazione di variabile, una definizione di variabile. La definizione di una variabile, l'ho detto forse l'altra settimana, è quando viene allocato spazio in memoria per quella variabile, appunto, come in questo caso. La dichiarazione, invece, è quando, premettendo la parola chiave extern, si dice che si userà una certa variabile all'interno del codice, ma quella variabile sarà definita altrove, in altri moduli, in altri file. Dunque, qui, invece, al posto di extern c'è questa parola const, che sta a significare che all'interno del codice questo valore che gli stiamo a dare adesso, 1,14, per esempio, non potrà essere modificato. A che cosa serve? Serve, appunto, evitare che il programmatore faccia degli errori definendo una variabile con un valore fisso, perché gli serve, per esempio, non so, la costante pi greco, e poi la dovesse andare a modificare, ecco. Va bene, comunque, qui che cosa abbiamo definito? Abbiamo definito una costante di tipo flot, che si chiama prezzo unitario, gli abbiamo dato questo nome, e gli abbiamo dato anche contestualmente subito il valore, 1,14 euro. Dopodiché, abbiamo due variabili, una variabile che si chiama pezzi della confezione, e cioè quante bottiglie andranno a finire in uno scatolone, per esempio, 6, 12, e poi un'altra variabile che si chiama offerta della confezione, che sarebbe a quanto la voglio andare a offrire questa confezione da 6 o 12 bottiglie. 1,14 sarebbe il prezzo di una singola lattina, di una singola bottiglia. Dopodiché, il programmatore gli viene in mente di fare questa cosa, di definire il prezzo offerta della confezione, facendo in questa maniera, moltiplicando il prezzo unitario della lattina, della bottiglia, per il numero di lattine o di bottiglie che stanno dentro la scatola. Detto così, semplicemente sarebbe, per esempio, se pezzi della confezione c'aveva il valore 6, offerta della confezione sarebbe 6 per 1,14. Punto. E quindi non si capisce l'offerta in che consiste. Sarebbe semplicemente la sommatoria dei costi dei singoli pezzi. Questo programmatore gli ha venuto in mente che vuole fare l'offerta, nel senso che vuole buttare via i decimali nella scatola. E allora che cosa fa? Utilizza una funzionalità che ha proprio il C, e il C++, il linguaggio dell'altro nome, che è quella di fare alcune conversioni, alcune, in maniera implicita. Questa qui, per esempio, è una conversione implicita che viene effettuata. La necessità della quale, di questa conversione, nasce dal fatto che c'è un'operazione qui, moltiplicazione, il per, che ha a sinistra una variabile di tipo intero, e a destra c'è una variabile di tipo float. Allora, questa operazione qui, la moltiplicazione, è la moltiplicazione fra gli interi o è la moltiplicazione fra i float? Beh, non ve l'avevo detto, ma come per la divisione, anche qui le operazioni fra i float sono totalmente diverse dalle operazioni, la moltiplicazione fra i float è totalmente diversa dalla moltiplicazione fra gli interi. A livello di istruzione macchina, ma qui non sappiamo quale deve utilizzare. Non si può effettuare un'operazione aritmetica con tipi diversi, con argomenti di tipo diverso. Bisogna decidere se usare la moltiplicazione fra interi o la moltiplicazione fra i float. Allora, quando il compilatore vede una cosa del genere, sapendo che deve decidere quale funzione associare a questo operatore, per prima cosa, fa sì che i due argomenti dell'operatore diventino dello stesso tipo. Cioè, fa una conversione di tipo implicita. la fa lui, la fa il compilatore. Allora, anche qui, non è una questione matematica, è una questione di buonsenso, e il buonsenso è sempre un po' discutibile. Secondo voi, chi ha implementato il linguaggio C++, se l'operazione che va a fare coinvolge un intero e un float, sapendo che li deve, tutte e due, rendere dello stesso tipo, converte il float in int o converte l'int in float? Implicitamente. Lo fa automaticamente. Qual è la conversione più naturale, secondo voi? Perché la conversione più naturale è convertire da int a float? Allora, perché l'operazione inversa, e c'è convertire da float a int, se il float ha una parte frazionaria, sicuramente stai a perdere informazione. La conversione opposta, non dovresti perdere informazione, ma abbiamo visto stamattina che anche quella è un'operazione comunque delicata, perché non è detto. Se c'è i numeri molto grandi, potresti anche lì avere un float che è una grande approssimazione di quell'int. Con gli int piccoli non c'è nessun problema. In ogni caso, la conversione migliore è quella che avete detto voi, e cioè convertire l'int in float, perché normalmente non ci dovrebbe essere perdere informazione. Semplicemente diventerà quel numero punto zero. A questo punto la moltiplicazione sarà una moltiplicazione fra float. E il risultato della moltiplicazione fra float sarà un float. Un float in number. Ma qui, però, vedete un'altra cosa. Vedete che poi il risultato dell'operazione è un float ma dopo dovrà essere messo sulla RAM all'indirizzo offerta confezione dove il compilatore ci aveva andato a mettere su quei 4 byte offerta confezione un intero. Cioè, per lui quei 4 byte non sono ai trapoli 7, 5, 4 ma sono complementa a 2. E quindi qui c'è un secondo problema. Il primo l'abbiamo risolto facendo diventare pezzi confezione un float. A questo punto abbiamo fatto la moltiplicazione fra float. Adesso abbiamo un secondo problema. Non noi, il compilatore. E c'è quello di mettere un float che sarebbe il risultato di questa moltiplicazione dentro un int. di nuovo il compilatore te lo fa passare questo se provate compila ma deve fare una scelta. Cioè deve deve convertire questa volta è obbligato un float in int. Non c'è scelta. Perché questo qui è un float in number lo deve andare a mettere dentro un int. Non può convertire questo qui a float. e quindi l'operazione che viene effettuata è un troncamento. Ecco perché questo programmatore gli era venuto in mente di fare questa cosa. Perché praticamente che cosa fa? Se per esempio pezzi della confezione fosse stato 6 adesso qui non si vede quant'è ma supponiamo che sia stato messo a 6 questo valore o quello che faccio prima 6 per 1,14 fa 6 per 84 6,84 questo risultato quindi da 6,84 quando viene messo dentro questa variabile viene messo 6 e 84 centesimi vengono buttate e sarebbe il senso dell'offerta. Questo che abbiamo visto sono due esempi di conversioni implicite. Altre volte invece e le conversioni implicite bisogna sapere come vengono effettuate. con che criterio vengono effettuate? Allora in linea di massima esiste una gerarchia di complessità sui tipi di dato primitivi il più semplice di tutti è il booleano perché c'ha solo due valori poi viene il char perché c'ha 256 valori poi vengono int long perché hanno 4 giga valori anzi il long da qualche anno da quando abbiamo le macchine a 64 bit è diventato il long è diventato a 8 byte e quindi ci sta questa questa poi tutte e due essendo di natura intera vengono prima dell'itrapoli 754 quindi in quella direzione la conversione viene fatta in maniera implicita cioè se io metto un booleano in operazione con un char il booleano viene trattato come un char e non il contrario perché il char c'ha 256 valori questo ce n'ha due è questo che viene trattato come un char è una cosa sporchissima non c'ha senso mettere un'operazione fra un booleano e un char e voi non la dovete fa ma il c con la filosofia che c'ha e il c++ deriva da quello ormai è chiaro non lo sto più a dire ti consente di far tutto in questo senso veramente il c è un linguaggio potentissimo è talmente potente che tipicamente ci si fa male allora per non farsi male bisogna avere una testa pulita non c'ha senso fare un'operazione probabilmente non ha senso fare un'operazione che coinvolga un tipo char o un tipo bull certo che la vostra fantasia vi potrebbe pure portare a pensare una cosa del genere ma vedrete che probabilmente se vi fate passare lo stimolo della fantasia trovate un modo più naturale per fare la stessa cosa che non faccia questo se le volete fare bisogna che state molto attenti e capite cosa succederà fate un po' di prove su pezzi di codice piccoli poi commentate bene quello che fate perché un giorno voi stessi non ricorderete perché avete fatto quella cosa è importante allora quando per esempio un int viene convertito in float si parla di promozione di tipo le conversioni implicite che fa il compilatore vengono dette promozioni perché si va da un tipo più semplice a un tipo più complesso ovviamente ci può essere perdita di informazione questo l'abbiamo commentato ampiamente state attenti ok oltre alle conversioni implicite ci sono invece le conversioni di tipo esplicite cioè quelle che fa il programmatore perché effettivamente si rende conto che ha bisogno di non si è pentito dell'aver dichiarato una variabile di un certo tipo però in un certo momento del suo codice c'ha bisogno che quella variabile assuma un altro tipo quindi ha bisogno di fare al momento una conversione per esempio innanzitutto come si fa a fare la conversione di tipo c'è un metodo classico che il c++ ha derivato dal c e che è quello di quello più usato non saprei veramente perché le statistiche non ce l'ho sono questi due tipi supponiamo di avere ad esempio una variabile k di tipo double e una variabile i di tipo intero e supponiamo che io ho bisogno di fare una conversione dal tipo intero al tipo double e la voglio rendere proprio in maniera esplicita allora il modo in cui si fa questo in c i modi sono due in cui si fa questo in c sono o premettere fra una coppia di parentesi tonde il tipo destinazione cioè quello in cui lo vuoi convertire premettere questo tipo alla variabile da convertire oppure si mette fra parentesi tonde la variabile il cui tipo vuoi convertire e prima ci si mette il nome del tipo in cui lo vuoi convertire questi due modi per fare il casting sono tipici del c sono usati entrambi questo secondo si chiama annotazione funzionale per chi ricorda il concetto della funzione applicata a un certo argomento quindi o si prende la variabile la si mette dentro una coppia di parentesi tonde e prima si mette il tipo in cui la vuoi convertire l'ho fatto in un paio di esempi che abbiamo visto stamattina oppure no in realtà ho usato quest'altra notazione stamattina mi pare oppure si premette dentro la coppia di parentesi tonde il tipo di destinazione alla variabile di cui vuoi cambiare il tipo il risultato quale sarà è che quella variabile lì avrà il tipo cambiato cosa esattamente succederà bisogna che ce l'abbiamo bene in mente queste cose le stiamo facendo con i tipi di dato primitivi ma si può fare queste cose anche con i tipi di dato che vedremo in seguito che sono definiti dal programmatore vediamo questo è il modo in cui fa la conversione di tipo il C il C++ ha introdotto altri tre modi di fare la conversione di tipo di cui vediamo adesso solo uno sostanzialmente gli altri due servono per cose che vedremo in seguito è che questo modo qui usare la parola static cast lo static cast come ho riportato qui effettua una conversione di tipo in C++ questo è C++ solo quando esiste una conversione implicita in senso opposto facciamo degli esempi abbiamo qui due variabili i e j di tipo intero e k di tipo double e poi abbiamo una variabile colore di tipo rgb l'abbiamo visto stamattina questo è un tipo che ha definito il programmatore con la parola chiave num ha definito un tipo quindi questo era int questo è double questo è rgb l'ha definito lui io stamattina l'ho definito pippo che ha però solo questi tre valori la costante red può assumere uno di questi tre valori la costante red o la costante green o la costante blu questo qui può assumere double uno su due alla otto valori questo uno su due alla quattro valori questo uno su questi tre valori poi definiamo i gli diamo un certo valore scusate un attimo no ad i gli do il valore della variabile colore ora colore è una variabile di tipo di tipo enumerativo e invece i è una variabile di tipo intero si può fare questa operazione qua allora ecco sono quelle cose che prima di farle esattamente come stiamo facendo adesso bisogna che un attimo ci pensiamo perché se questo è un intero e questo invece può assumere solo uno di questi tre valori l'operazione che farà il compilatore quale sarà e il compilatore qui c'ha gioco facile perché tanto per il compilatore red green e blu non esistono sono semplicemente 0,1 e 2 perché il tipo enumerativo si appoggia sul tipo intero e quindi qui veramente il compilatore va tranquillo dice ma che problema c'è tanto colore dal suo punto di vista è comunque un intero i è un intero non c'è problema in realtà manco fa una conversione di tipo gli sta proprio beh così com'è adesso invece il programmatore vuole fare un'altra cosa prende la variabile colore e la variabile i e vuole fare la conversione opposta la variabile i può spaziare solo su questi tre valori la variabile colore chiedo scusa la variabile i può spaziare su 32 valori si può fare questa conversione questa qui è una conversione esplicita fatta secondo lo stile del c++ e non del c questo non ve la passa il compilatore c si può fare o non si può fare si arrabbia o no il compilatore il compilatore te la passa te la passa perché come abbiamo visto prima ma la conversione da colore i è fattibile è implicita siccome la conversione da colore i è implicita lo static cast lo possiamo usare per fare la conversione opposta perché la conversione implicita la fa il compilatore con le sue regole la conversione opposta la devi fa tu in maniera esplicita o come fa il c o come fa il c++ scegliete voi ma cosa succederà in pratica è questo il programmatore bisogna che lo lo decidi deve stare attento lui il programmatore perché cosa succede se i è 0 non c'è problema colore assumerà il valore red cosa succede se i è 1 colore assumerà il valore green se i è 2 assumerà il valore blu se i è 3 non mi vergogno a dire non lo so dovrei fare la prova a vedere cosa succede cioè in realtà l'ho fatta la prova non mi ricordo è che non sta scritto in nessuna parte quello che succede perché non sta scritto sui manuali del linguaggio cosa succede questo è tutto fatto dal programmatore lo deve sapere lui quello che succede allora bisogna che fa una prova cioè io sto cercando di dare questi messaggi per far capire che programmare non è una scienza è un'arte è una specie di artigianato ci sono dei metodi tecnici per fare ingegnare il software lo vedrete per cercare di ridurre gli errori di incanalare un po' l'attività del programmatore perché non faccia troppi errori però l'errore è sempre dietro l'angolo so se mi state capendo se avete dei dubbi qualunque cosa non mi sto spiegando ditelo tranquillamente non fate brutte figure è una classe molto silenziosa rispetto a quella degli anni passati forse perché siete già esperti di queste cose andiamo avanti ho raccolto qui un po' di esempi che mettono in luce anche questo che sto per vedere per far vedere perché il programmatore a volte è costretto a fare la conversione esplicita vediamo qua non so se si vede giù in fondo datemi un cenno si vede? grazie qui avremmo una variabile k che il programmatore gli impone di prendere il valore che risulta dalla divisione di i per j ci siamo? ora i e j di che tipo sono? intero sono entrambe dello stesso tipo allora la divisione è questa qui quale sarà? la divisione fra interi? vabbè sto a dire stupidaggi o la quell'altra? è chiaro la divisione fra interi quella che cioè ti dà il risultato come intero e poi eventualmente se ci mette qui il percentuale ti darà anche il resto ma un'altra operazione quella è quindi questa qui sarà la divisione intera e poi l'intero verrà messo in k che è di tipo double si può mettere l'intero in k tipo double? ovviamente sì è la conversione implicita non c'è problemi però a questo punto il programmatore si accorge che ha sbagliato perché in realtà lui voleva fare la divisione reale fra gli interi non la divisione intera non gli interessava la divisione intera cioè se questo è 33 e questo è 5 questo qui mi restituisce 6 invece il programmatore voleva 6, 6, non lo so 3 diviso 5 non lo so 6, qualcosa come fa? infatti voleva 6, qualche cosa aveva messo k double flott insomma chiaro che voleva 6, qualcosa ma questa operazione non gliela dà gli dà 6 come risultato come fa a avere 6, qualcosa? e deve cambiare il tipo di una almeno una di queste due in teoria di tutte e due però non è necessario che lo fanno di tutte e due perché quell'altra poi la converte implicitamente il compilatore cioè che cosa quindi è costretto a fare il programmatore che siamo noi? è costretto a prendere una di queste due per esempio il numeratore che è di tipo intero e mediante questo questo strumento cioè la parola chiave static cast dentro le cui parentesi angolare viene messo il tipo di destinazione oppure in uno di questi due funzionano lo stesso ovviamente converte il tipo da intero a double del numeratore per esempio poteva anche farlo quello del denominatore del denominatore a questo punto questa qui è stata convertita non è più intero ma è un float solo in quell'operazione attenzione questo è un concetto importante la validità di questa conversione avviene solo su questa riga di codice la i rimane comunque una variabile tipo intero viene momentaneamente convertito il tipo da intero diventa float double fa float e double vi ricordo c'è la differenza che float è su 4 byte e double è su 8 ma lo standard è lo stesso ci siete? a questo punto qui abbiamo un double e qui un intero questa operazione qui sarà la divisione fra i double o quella fra gli interi? fra i double perché? perché viene automaticamente dal c convertito anche j a double abbiamo a questo punto una divisione fra due double e quindi il risultato sarà 6, qualche cosa e questo 6, qualche cosa verrà correttamente scritto sulla ram all'indirizzo k bene il reinterpret cast ne parleremo più in là allora qui ho riportato degli esempi che poi vi metto anche sul sito vi metto una ventina di programmini relativi agli argomenti quelli che stiamo trattando adesso che cosa abbiamo qui? questo sicuramente da giù in fondo non si vede però abbiamo un esempio di un programma che ve lo riporto pure in cui abbiamo una variabile c di tipo carattere che è stata inizializzata con una maiuscola poi viene stampata c c uguale è il valore di c viene stampato in output poi viene convertito il tipo di c della variabile da char a int col metodo quello detto funzionale che è usato anche in c e poi viene stampato il c convertito il tipo risultato si stampa c uguale a maiuscola e poi int c uguale 65 che cos'è questo 65? è il codice asci della maiuscola cioè se io prendo una variabile tipo char e la converto a int praticamente sto dicendo che a me mi interessa quel byte non in quanto identificatore di un carattere in base al codice asci che c'è scritto dentro ma mi interessa quel byte in quanto numero e quindi questo sistema lo posso usare per farmi una tabellina per vedere i codici asci di tutti i caratteri che ho quando facciamo il for che è fare un ciclo per 256 volte facciamo un esercizietto per vedere tutti i caratteri che usa il nostro computer bene conversione di tipo esplicite e chiudiamo questa parte parlando del size off che è un operatore implicito in quasi tutti i linguaggi imperativi di tipo evoluto che dovete includere questa libreria per utilizzarlo e praticamente ci restituisce la dimensione in byte del tipo di dato o della variabile che abbiamo a che cosa serve questo serve nel codice sorgente per poterlo rendere indipendente dalla piattaforma hardware su cui gira perché ci sono certe piattaforme hardware su cui il char è su un byte altre che so su quattro allora se noi ci basiamo non facciamo attenzione abbiamo che un certo sorgente compilato su una piattaforma hardware diversa da quella dove l'abbiamo scritto noi si comporterà in maniera diversa perché le dimensioni dei tipi sono diverse per esempio questo succede quando si si programma su pc per le piattaforme cosiddette embedded per raspberry per queste qui che hanno magari un modo diverso per rappresentare quel tipo di dato su meno byte per esempio perché sono più piccole meno ram e quindi ci potrebbero essere degli errori con questo operatore noi ben usato faremo anche degli esempi in seguito riusciamo a far sì che il codice si renda un po' indipendente dalla piattaforma hardware quindi questo sogno di avere un solo codice che possa essere compilato per qualunque piattaforma hardware è un pochino meno distante se si fa un uso corretto dell'operatore sizeoff allora per vedere come funziona vi metto sempre online questo programmino che mi sono fatto è un programmino che lancia semplicemente delle stampe e c'è il primo carattere il carattere di tabulazione che serve per mettere tot spazi per incolonare meglio la stampa e dopo di che mando in stampa sizeoff char sizeoff short sizeoff int e così per tutti i tipi di dato primitivo compreso vchar wchar underscore t che sarebbe il char che è stato pensato in c da qualche anno a questa parte per ospitare l'unicode che è su 4 byte su queste piattaforme nostre e mi pare eccolo qua questo è stato compilato e eseguito qualche anno fa e vedete che mi riporta la dimensione di tutti i tipi di dato vabbè come usare questo sizeoff e dove usarlo poi lo vedremo in qualche esempio concreto più in là allora legato al concetto di tipo di dato c'è anche il concetto di precedenza e associatività anche queste qui andrebbero conosciute però ve lo dico subito pure io ho bisogno ogni tanto di andare a vedere la statabella che vi sto per far vedere quindi non vi preoccupate se certe cose non non ve le ricordate a memoria non è un problema perché ci sono i libri manuali che ci consentono di andare a vedere di che cosa sto parlando sto parlando che sto parlando del fatto che dato un tipo di dato char int quello che è ci saranno degli operatori per quel tipo di dato e alcuni li abbiamo visti tutti anzi non alcuni questi operatori in realtà ce ne sono tanti tipi operatori aritmetici operatori relazionali operatori logici land l'or e ci sono altri operatori che vedremo in seguito quando che andiamo a scrivere un'espressione che cos'è un'espressione variabile operatore variabile operatore variabile questa sarebbe un'espressione e lì ci stanno gli operatori a volte ci sono cioè operator operatore per poter capire cosa deve fare quell'espressione cioè come va trattata bisogna conoscere le precedenze fra gli operatori e l'associatività che quell'operatore ha se associa a sinistra o se associa a destra questo fortunatamente non è un concetto difficile perché è un concetto che ce l'abbiamo già dall'eritmetica quando eravamo ragazzi sappiamo già benissimo da tanti anni che gli operatori hanno una precedenza è un'associatività e ho messo in questa tabella che sta sulle slide credo tutti gli operatori predefiniti del C anzi del C++ che comprendono quelli del C++ comprendono tutti quelli del C e la tabella che non è molto leggibile qui perché i caratteri sono scritti piccoli perché ce l'ho dovuto mettere tutti è leggibile in questa maniera la precedenza diminuisce dall'alto verso il basso e degli operatori che sono qui nella colonna di sinistra nella colonna a destra riga per riga ci ho messo il tipo di associatività di quell'operatore che può essere o a destra o a sinistra sto parlando di cose adesso non vorrei offendervi il concetto di associatività è un concetto che ce l'avete ovviamente no? allora per esempio beh molti operatori ancora non li abbiamo visti però abbiamo visto gli operatori ad esempio aritmetici che ho messo qui in rosso hanno una precedenza diciamo un pochino intermedia rispetto agli altri operatori e come ovvio intuitivo che fosse la precedenza dell'operatore di moltiplicazione è la stessa di quello della divisione che è la stessa di quella qualunque divisione essa sia intera o flott che è la stessa dell'operazione di resto nella divisione intera e questi tre hanno la stessa precedenza hanno associazione tutti e tre a sinistra come nell'aritmetica associatività quindi se per esempio c'ho a più b più c prima si fa a più b e il risultato più c sto dicendo delle banalità ma perché voglio che mi seguiate nel concetto non è per niente banale dopo capire come si disambigua un'espressione ve lo dico è complicato per cui ovviamente a volte ci si mettono le parentesi tonde per cercare di far di riportare bene le cose ovviamente la precedenza di questi tre è maggiore come è dall'aritmetica della precedenza dell'operatore di somma e di sottrazione ovvio che sia così ci mancherebbe allora vedete che questi operatori qui che abbiamo usato nel CIN e nel CAUT hanno precedenza maggiore degli operatori bitwise ed è il motivo per cui nell'esercizio di oggi ho dovuto mettere le parentesi tonde a un certo punto se ne andate a rivedere allora su questa tabella soprattutto per il fatto che di tutti questi operatori ancora non l'avete visto quasi nessuno non ci starei oltre semplicemente vi dico che probabilmente la dovrete ogni tanto andare a consultare lo faccio ancora tuttora io per andare a capire cosa fa una certa espressione correttamente e adesso cerchiamo di capire bene come funziona l'assegnamento e poi passiamo a vedere come funziona l'input-output e finiremo domani a parlare dell'input-output sui file allora che cosa abbiamo qui facciamo un attimo l'anatomia dell'istruzione più importante di tutte che è l'istruzione di assegnamento del C e del C++ che come sappiamo bene l'abbiamo usata già tante volte è rappresentata dall'operatore questo qui che non lo chiamo uguale in realtà mi sbaglio sempre non dovrebbe essere chiamato uguale che a sinistra come abbiamo detto la settimana scorsa deve avere un left value cioè un indirizzo un indirizzo della ram e a destra deve avere un right value cioè cosa scrivere a quell'indirizzo della ram quando noi definiamo una variabile viene allocata sulla ram spazio per quella variabile a seconda del tipo della variabile e come ho detto tante volte già i bit che scriveremo qui saranno interpretati in un modo in un altro a seconda del tipo della variabile quello che non molti sanno e che mi fa piacere dire a voi è che l'istruzione di assegnamento è essa stessa un'espressione e infatti questo qui è un operatore ora in c ogni espressione restituisce un valore è naturale che sia così per le espressioni arittometiche restituiranno il risultato dell'operazione arittometica è un po' meno naturale pensare che anche un'istruzione in quanto è essa stessa un'espressione restituisca un valore che valore restituisce x uguale meno 3 punto 113 non viene naturale pensarlo perché questa non è un'espressione arittometica è un'istruzione di assegnamento perché diventi dare ci vorrebbe il punto e virgola qui ma se voi qui ci mettete il punto e virgola questa diventa un'istruzione cioè significa devo andare sulla RAM a mettere quel valore ma per come scritta questa parte qui è un'espressione perché c'è un operatore che è questo qui e due argomenti seguiti a me l'argomento di sinistra è un indirizzo della RAM un left value l'argomento di destra è un valore che deve essere scritto a quell'indirizzo della RAM questa espressione che valore restituisce? non è naturale rispondere a questa domanda per cui rispondiamo in base a quello che sono state le scelte fatte dai programmatori i programmatori hanno detto ah questa per forza deve essere un'espressione facciamo in maniera tale chi ha implementato il compilatore del C ha fatto in maniera tale che l'espressione restituisca come valore il suo left value cioè restituisce l'indirizzo della RAM dopo che viene eseguita l'istruzione l'espressione in quanto tale restituisce questo valore il che significa che io posso fare questa cosa posso scrivere è come scritto sulla slide posso scrivere j uguale i uguale meno 3.113 allora questa che vedete qui se ci mettete un punto e virgola qui diventa un'istruzione l'espressione in quanto tale ha due operatori e tre argomenti due argomenti sono due left value un terzo argomento è un right value come va interpretata questa espressione per interpretare l'espressione dobbiamo andare a vedere la tabella di prima se andiamo a vedere la tabella di prima vediamo che l'operatore questo qui ha una certa precedenza però in questo caso non ci interessa in quanto che nell'espressione c'è un altro operatore uguale a lui per cui avranno la stessa precedenza quello che è importante però è l'associatività di questo operatore e se andiamo a rivedere dove sta l'operatore eccolo qua è quello che ha la precedenza più bassa di tutte come mai ha l'operazione la precedenza più bassa di tutte perché questo deve essere l'ultimo operatore che viene preso in considerazione nel disambiguare l'espressione dopo che hanno lavorato tutti gli altri lavora lui l'ultimo ha la precedenza più bassa di tutte e come è associativo a destra o a sinistra è associativo a destra non a sinistra sapendo questo adesso non abbiamo più problemi a disambiguare questa espressione perché questa espressione fa così uguale uguale prima essendo associativo a destra va a risolvere l'espressione i uguale meno 3 punto 113 prima viene eseguita quella e l'effetto quale sarà è che all'indirizzo i viene scritto meno 3 punto 113 valutata questa espressione essa che restituirà che restituisce meno 3 punto 113 o restituisce i i per cui successivamente viene valutata la sottoespressione j uguale i a questo punto qui c'è un left value dalla parte di destra non viene preso lui come indirizzo ma viene preso il valore che sta a quell'indirizzo perché sta dalla parte destra e il risultato sarà che anche dentro la variabile j ci verrà scritto quel medesimo valore e dunque questo è il modo per dare a due variabili lo stesso valore ragazzi stiamo all'inizio dobbiamo cercare di capire tutto proprio a livello elementare però guardate che stiamo a fare una disamina proprio attenta e precisa che vi aiuterà anche in futuro a capire come funzionano i linguaggi è chiaro quello che ho appena detto non è chiaro niente o è chiaro tutto dai grazie la domanda è perché i è un left value allora left value vuol dire indirizzo della ram indirizzo di memoria right value vuol dire valore scritto in quell'indirizzo i ah qui non c'è però perché c'era da qualche parte prima di questa riga di codice c'era per esempio int i cioè avevamo definito una variabile che si chiama i e i è il nome di una variabile i nomi delle variabili come anche per chi è già bravo lo dico i nomi delle funzioni altro non sono che indirizzi della ram c'è left value cioè li devi pensare come quando che sarà tutto compilato e diventerà un eseguibile al post dei ci starà l'indirizzo di una cera della ram altre domande allora avendo in mente proprio quello di cui abbiamo parlato in questo momento e c'è che i è l'indirizzo della ram vediamo alcuni int i j val m questi sono nomi di variabili scritti correttamente secondo la sintassi del c vi lascio anche un esercizietto dove vi fa vedere anche degli errori dei sintassi poi scriviamo costante c di tipo intero uguale i questo qui è corretto o no? allora questo è un assegnamento stiamo definendo una costante di tipo intero che si chiama ci e gli diamo come valore il valore che in quel momento ha la variabile i è corretto l'unica cosa strana è che in questo pezzo di codice i non ha ancora assunto un valore i come vedete che in questo pezzo di codice non è inizializzato non ha assunto un valore e che quindi che valore ci avrà? casuale ma molto probabilmente zero se quelle cele non sono state usate da altri programmi prima se appena ha partito il programma o lui stesso non l'ha già usate ci sarà zero questo qui è un assegnamento che non può essere fatto per quale motivo? perché il right value 2040 che è una costante ovviamente non ci possono essere nomi di variabili o funzioni che iniziano con cifra in C potrebbe iniziare con un underscore ma non con la cifra come regola di programmazione per le variabili darete un nome con tutte minuscole per le costanti darete un nome con tutte maiuscole per i simboli di funzioni di cui ancora non abbiamo parlato e darete un nome che è di tutte minuscole ma l'iniziale capitalizzata in maiuscolo ma questo è solamente il compilatore vi passa non è obbligato a far questo però è uno stile di programmazione buono qui abbiamo il right value che sta a sinistra del simbolo di assegnamento e non c'ha senso perché qui ci deve stare l'indirizzo di una ram e non un valore ci può stare solo il nome di una variabile questo pure è un errore perché a sinistra del simbolo di assegnamento non ci può stare un'espressione aritmetica della serie non confondiamo l'assegnamento con l'uguaglianza e l'ultimo è pure un errore perché c è stata dichiarata come costante e quindi all'interno del codice non può assumere un valore ok per velocizzare le operazioni di scrittura e per renderle più sintetiche possibile all'interno del codice si usano anche gli assegnamenti composti più uguale meno uguale per uguale diviso uguale e il resto uguale questi qui che ho messo in rosso sono operatori di assegnamento composti e vanno interpretati come ho riportato in questo slide se io scrivo a più uguale b è come se stessi scrivendo che a diventa ciò che era prima più b a meno uguale b è come se scrivessi a diventa ciò che era prima meno b e così per gli altri operatori che differenza c'è fra questa scrittura e questa scrittura a livello di codice macchina nulla a livello di codice da leggere è più è più leggibile questo di questo perché qui il programmatore capisce subito dopo un po' che si è abituato a vedere questo operatore che la variabile a viene incrementata di b l'occhio è facilitato e anche qui vi ho messo un esercizietto per questo e ve lo andate a vedere con calma o sulla slide o ve lo scaricate dal sito di learning invece questo è un aspetto delicato quindi sul quale invece richiamo la vostra attenzione allora ci siete posso avere la vostra attenzione stiamo adesso per parlare di due operatori anzi quattro pre-incremento post-incremento pre-decremento post-decremento su cui spesso si vanno a incagliare le barche dei programmatori anche quelli esperti e quindi chiederei un attimo di attenzione perché vorrei cercare di farvi vedere nel dettaglio cosa fanno questi operatori e come si differenziano fra gli altri innanzitutto che cosa fanno cosa vogliono fare questi sono quegli operatori di incremento o decremento di uno cioè si prende il valore di una variabile che sta sulla RAM la si aumenta di uno o la si diminuisce di uno sono eccezionalmente veloci perché fanno uso di un'istruzione macchina che abbiamo visto qualche settimana fa in INC incrementa o DEC decrementa che sono due istruzioni proprio del microprocessore per cui vanno a prendere effettivamente sulla RAM la variabile perché la variabile sta sulla RAM la devono andare a prendere quindi ci vogliono due cicli per leggerla e portarla sui registri ma quando che sta sul registro automaticamente viene diminuita di uno con una sola istruzione che dura due cicli di clock quindi sono molto veloci ma e ce n'è due per l'incremento di uno e due per il decremento di uno perché due adesso cerco di spiegare perché come nessuno lo spiega perché vi dico quello che tutti dovrebbero sapere più vi dico anche il dietro le quinte del perché le cose stanno così cerco di essere il più possibile chiaro tutti sanno che questo operatore qui si chiama post incremento e questo operatore qui si chiama pre-incremento tutti sanno vagamente che questo qui fa una certa cosa con la x a seconda di dove è messo questo operatore in quale altra espressione è messo e poi aumenterà la x di uno viceversa questo qui prima aumenta il valore di x di uno e poi farà le altre cose che dovrà fare a seconda dell'espressione in cui sarà messa questo più o meno lo sanno tutti e non sarebbe sbagliato però io adesso vorrei cercare di farvi vedere qualcos'altro allora stanno tutte e due per questo cioè che la variabile x viene incrementata di uno e le altre due viene decrementata di uno e tutti sanno che se io scrivo y uguale x più più il risultato è che y prende il valore di x poi punto e virgola x viene aumentata di uno perché questo è l'operatore di post incremento quindi prima consegna il valore della x alla variabile y e poi viene incrementata la x viceversa questo qui inverte l'ordine di queste due operazioni prima incrementa la x e poi il risultato lo assegna la y fino a qui vi siete raccordati con quello che tutti i programmatori sanno adesso cerchiamo di fare un passetto avanti che in realtà è andiamo a vedere dietro cosa succede dietro se volete vedere proprio cosa succede dietro lo faccio vedere oggi no perché siamo stanchi ma vi disassemblo il codice lo faccio vedere proprio in assembli ma intanto vi faccio vi faccio vi dico questo e non so se allora l'operatore di post incremento restituisce un r value l'r value aumentato invece l'operatore di pre incremento restituisce il left value chi non sa la differenza fra right value e left value non può capire quello che sto dicendo se vi ricordate che cos'è il left value l'ha appena ricordato lui e c'è un indirizzo questo operatore qui questa espressione ok incrementa x di 1 ma poi non restituisce il valore di x aumentato ma restituisce x l'indirizzo invece questo operatore qua aumenta pure il valore di 1 ma poi non restituisce l'indirizzo ma restituisce il valore quindi voi siete in grado di capire una differenza fondamentale a questo punto che io posso scrivere e qui già ce l'ho messo la freccia non posso posso scrivere x più più e poi più più di nuovo non lo posso scrivere e i vostri colleghi programmatori dicono ma perché non si può fare perché non posso incrementare due volte di uno non si può fare perché l'operatore di post incremento dopo che ha incrementato quindi dopo le parentesi tonde usciamo fuori restituisce il valore incrementato che è una costante per esempio se x era 31 restituisce 32 posso fare 32 più più no perché 32 è 32 è un right value io posso fare x più più no 32 più più 32 è 32 x invece è la scatola dove dentro ci può stare 32 allora se io faccio x più più quello che c'è dentro per esempio 32 diventa 33 ma se io faccio 32 più più faccio un errore punto e basta ontologicamente non lo posso fare posso fare tavolo più più no però se io ho una scatola dove dentro c'è un valore io posso fare scatola più più sì si intende che devo aprire la scatola prendere quel valore aumentare il valore di uno e rimetterlo dentro la scatola quindi questa operazione qui non è possibile i vostri colleghi sanno che forse che non si può fare ma non sanno perché voi lo sapete però posso fare questa perché la posso fare perché il pre-incremento dopo che ha incrementato non restituisce il valore incrementato ma restituisce l'indirizzo della variabile che ha incrementato dopo che queste due parentesi tonde mi hanno restituito l'indirizzo che mi hanno restituito x e quindi io posso fare di nuovo più più x questo qui ha effetto che aumenta x di 2 questo ha effetto che fa incazzare il compilatore ha anche l'effetto di far arrabbiare i vostri colleghi che non sanno perché questo non si può fare e questo sì adesso adesso lo sapete e il motivo sta che questo operatore il post incremento restituisce il valore incrementato questo qui invece restituisce l'indirizzo della variabile che ha incrementato quindi qui ne potete incasellare quanti ne volete qui manco due uno solo ne potete fare al massimo è chiaro quello che ho appena detto ecco se è chiaro piano piano state poi fate degli esercizi e vedete che non è sempre del tutto tutto comprensibile qui questo è un focus della tabella di prima su precedenza associatività di alcuni degli operatori di prima per cercare di memorizzare almeno questi e adesso andiamo verso un po' la conclusione vi faccio vedere un paio di cose sorprendenti e poi andremo a questo punto beh un altro po' di tempo ce l'ho però cominciamo a vedere l'input output ma poi lo faremo domani vi faccio vedere due o tre cose un po' importanti nel senso che i programmatori si sbagliano spessissimo i programmatori alle prime armi supponiamo che io debbo vedere parliamo degli operatori relazionali supponiamo che io debbo andare a vedere che il valore di una certa variabile sia compreso all'interno di due valori per esempio c'ho una variabile x di tipo intero all'interno del codice questa variabile avrà un po' di traversie per esempio sarà letta dall'input questa istruzione questa istruzione qui va a leggere la variabile dall'input e quindi viene si dice valorizzata in questa istruzione questa l'aveva allocata in memoria questa la valorizza poi ci saranno un po' di traversie poi a un certo punto mi sta in mente che io devo vedere se questa x sta fra 2 e 4 non so per esempio maggiore di 2 minore uguale a 4 siccome gli operatori ce l'ho per farlo e sono proprio quelli allora adesso ancora non abbiamo fatto l'if però io posso pensare di fare un if così vai a vedere se x sta fra 2 e 4 perché sono bravo in matematica queste cose ho preso trentellodi in analisi lo faccio e faccio una cappella perché questo è un clamoroso errore tipico del programmatore alle prime armi non si può fare perché questa espressione qua restituisce sempre vero perché mi pare sì è questa espressione qui vi ricordo che gli operatori di relazione qui ce ne sono due due operatori relazionali gli operatori relazionali ve l'avevo detto restituiscono un valore di tipo booleano o vero o falso è vero o è falso che x è maggiore di 2 o minore di 4 o quello che è ci siamo adesso dobbiamo chiederci innanzitutto la precedenza fra questi due e andiamo a vedere che questo e questo hanno la stessa precedenza vabbè poi dobbiamo chiederci l'associatività e andiamo a vedere anche io ci ritorno che l'associatività dove stanno eccoli qua è a destra chiedo scusa è a sinistra era lo funzionava lo stesso cioè comunque va male l'associatività è a sinistra quindi io per valutare l'espressione 2 minore di x minore uguale a 4 prima devo valutare questa sott'espressione 2 minore di x a questo punto che sarà sarà vero sarà falso che 2 minore di x dipende da x quindi se x è 4 sarà vero se x è 1 sarà falso ma dopo il c come risultato di questa sott'espressione che valore userà se era vero usa 1 se era falso usa 0 e poi il c va a vedere ok adesso 0 è minore di 4 sì 1 è minore di 4 sì il risultato sarà sempre 1 cioè questa espressione qui qualunque sia il valore di x restituisce il valore 1 e quindi non si può fare e allora come si fa? come si fa? si staccano le due operazioni si staccano come scritto qui e cioè si fanno due test si va a vedere se x è maggiore di 2 and x minore o uguale a 4 a questo punto se sono veri entrambi questi test perché qui c'è l'endologico se hanno restituito 1 e 1 allora tutto quanto restituisce 1 ma solo in quel caso domanda? vanno spezzati gli operatori relazionali che figurassero nella stessa espressione bisogna metterli sempre un solo con un operatore logico di collegamento adesso un altro concetto importante il concetto di cortocircuito logico vi ricordo qui gli operatori logici fondamentali l'end l'or e il not per questi operatori l'associatività è a sinistra e adesso vediamo cos'è il cortocircuito logico che si usa nel codice per o ottimizzare il codice o per impedire di fare degli errori di che si tratta? si tratta di questo se io ho un'espressione in end c'è l'end logico e i due operandi sono due variabili booleani o due espressioni che restituiscono un valore tipo booleano potrebbero essere o due bool cioè proprio bool a e b oppure potrebbero essere delle espressioni con degli operatori di confronto come quelli che abbiamo appena visto 2 minore di 4 2 minore x minore di 2 eccetera che restituiscono un valore vero o falso allora quando è che l'end è falso? basta che uno dei due sia falso che tutto quanto l'espressione è falsa quindi il c che cosa fa il compilatore? crea un codice quando va a compilare binario che si comporta come vi sto dicendo per dire io prima va a valutare la sott'espressione logica di sinistra che deve restituire un valore booleano o 0 o 1 se restituisce 1 vero va a valutare la sott'espressione logica di destra e qualora anche questa restituisse 1 per tutto quanto viene restituito 1 ma se la sott'espressione di sinistra restituisce 0 cioè false per quale motivo bisogna andare a valutare anche la sott'espressione di destra? Comunque l'end darebbe 0 e infatti il codice che produce il compilatore non lo fa cioè se questa restituisce 0 cioè false la sott'espressione di sinistra non viene valutata viceversa se l'espressione fosse un or quando è che l'or è falso? quando è che è vero? è vero quando almeno uno delle due è vero è falso quando entrambe sono false allora se A restituisce false per valutare tutta l'espressione bisogna andare a valutare anche B ma se A restituisce true non è necessario andare a valutare anche B perché tutta quanta l'espressione A or B restituisce comunque true vero cioè uno e quindi il codice prodotto dal compilatore binario farà sì che se la sott'espressione di sinistra in un or restituisce true la sott'espressione di destra non viene presa per niente in considerazione tutto questo come lo usiamo per ottimizzare il codice come lo usiamo per impedire di fare degli errori adesso ve lo faccio vedere supponiamo ad esempio di dover selezionare i persone di sesso maschile che abbiano più di 80 anni di età quindi dobbiamo fare un controllo che l'età sia più di 80 e che il sesso sia maschio un controllo che l'età sia più di 80 un altro che il sesso sia maschio dal punto di vista logico fare prima l'uno e poi l'altro viceversa non cambia dal punto di vista dell'ottimizzazione della velocità di esecuzione del programma le cose possono cambiare invece voi cosa fareste prima andreste a controllare che l'età sia più di 80 anni supponiamo una popolazione statisticamente casuale che la popolazione sia più di 80 anni e poi che sia maschio o andrete prima a vedere che sia maschio e che poi l'età sia più di 80 anni allora lui dice prima il sesso controllo prima il sesso perché perché la metà delle persone è maschia è maschia invece solamente il 10% ha più di 80 anni quindi la probabilità di non fare il secondo test è maggiore se io metto prima il test sul sul sesso no dipende dal maggiore o minore sull'80 se metto maggiore di 80 ho detto maggiore di 80 anni quindi no se lo faccio in end sarà più probabile che non abbia 80 anni e quindi metto prima il controllo su più di 80 anni perché è il 10% quindi sarà più facile falsificare e se io riesco a falsificare questo non faccio il secondo quindi devo mettere prima il controllo più probabile fino a qua è solo trucchetto per rendere più veloce il programma ma adesso guardiamo un'altra cosa supponiamo che io debba fare un'operazione che deve assegnare una certa variabile il valore 1.0 diviso n attenzione uno degli errori classici che fa impiantare un programma è la divisione per 0 la divisione per 0 il compilatore non lo può sapere in assoluto che una certa variabile n assuma il valore 0 in una certa parte esecuzione quindi ovviamente il compilatore non lo può sapere che sta per fare una divisione per 0 e quindi te la passa semplicemente che se n diventa 0 il programma si pianta e si pianta abortisce allora si dice così allora bisogna fare un controllo quando si va a dividere un valore per esempio 1 per una variabile bisogna sempre stare sicuri che quella variabile non assuma mai il valore 0 un modo per fare questo è proprio usare il cortocircuito che abbiamo appena visto cioè io che cosa posso fare posso fare invece che andare a dire s minore di 1 su n cosa pericolosissima perché 1 su n potrebbe dare errore qualora n fosse 0 io vado a fare prima n diverso da 0 poi and s minore di 1 su n cioè prima metto la condizione di sicurezza cioè vado a vedere che n non sia 0 n diverso da 0 se questa passa cioè restituisce true allora per valutare l'end il compilatore crea un codice che va a eseguire questa istruzione a questo punto a questo punto questa istruzione è un'istruzione safe perché avendo passato questo scoglio sicuramente n non è 0 viceversa se n è 0 questa da false e questa per il motivo che abbiamo appena detto non viene eseguita e quindi questa sottoespressione restituisce false e io a seconda poi qui ci sarà un if da qualche parte farò certe cose ma non ho fatto piantare il programma grazie a questa tecnica del cortocircuito e la stessa cosa la potevo fare con l'or con l'or avrei fatto così è duale dal punto di vista logico il discorso prima vado a vedere se n è 0 se n è 0 questo lo metto in or con s minore di 1 su n se n è 0 l'or c'è questo cortocircuito essendo che la sottoespressione di sinistra è true quella di destra non viene valutata e quindi subito esce questa operazione non viene fatta questi sono trucchetti importanti che migliorano la velocità del vostro codice e nell'ultimo esempio che abbiamo fatto addirittura impediscono che vada in crash il programma e quindi ve li consegno l'ultimo operatore che vediamo che è messo a disposizione al C è un operatore particolarissimo non credo che ce ne siano altri non certo in C in altri linguaggi non lo so perché ha la particolarità questo operatore di avere tre argomenti è un operatore primitivo viene detto operatore condizionale e è fatto di due parti un punto interrogativo e un due punti tutte e due fanno un unico operatore ternario con tre argomenti che si chiama tutto quanto operatore condizionale e come viene valutata questa espressione tutta quanta questa espressione qui c'è scritto condiz perché questa parte dell'espressione è una condizione deve residire un valore vero o falso poi abbiamo una qualunque espressione potrebbe anche essere booleana e poi ancora un'altra espressione tutta quanta questa è un'espressione che residirà quindi un valore che sarà quale il valore residito da questa espressione sarà il valore residito da espro 1 o da espro 2 a seconda di quello che residisce questa espressione qui booleana se questa è vera tutta l'espressione restituisce il risultato di espro 1 se questa qui è falsa tutta l'espressione restituisce il valore di espro 2 questo operatore si chiama operatore condizionale vediamo degli esempi io potrei mettere per esempio qui nella condizione x maggiore di y dove x ed y sono due variabili due float due integer poi punto e virgola x anche x il nome di una variabile è un'espressione due punti y che succede? succede questo che questa è un'espressione che se x la variabile x la scatola x c'è dentro un valore che è superiore al valore che c'è dentro la scatola y queste due scatole non lo dirò più stanno sulla RAM il valore che c'è qui a questo indirizzo della RAM è maggiore del valore che c'è qui allora verrà restituito quel valore altrimenti verrà restituito quell'altro c'è in pratica questa è un'espressione che mi restituisce il valore maggiore di due variabili molto sintetica carina forte io non so di due variabili qual è la maggiore uso questa espressione qui per restituirmela somiglia all'if per chi ha fatto già programmazione ma attenzione l'if è un'istruzione lo vedremo la settimana prossima questa invece è una banale espressione deve solo restituire un valore va bene allora io adesso dovrei cominciare un argomento importante ho usato il dovrei perché essendo importante l'argomento l'input output non mi pare il caso di iniziarlo quando le batterie stanno per esaurirsi quindi lo rimando alla giornata di domani faremo ve lo dico subito l'input output da tastiera e monitor e poi domani faremo anche l'input output da file dal disco fisso quindi a questo punto la settimana prossima faremo l'if e le istruzioni cicliche dopodiché potete fare qualunque programma d'esame quasi allora a questo punto ci vediamo domani alle due alle due e mezza parleremo di input output a questo punto Grazie.